Ciao a tutti da Lord Fener da Marco quest'oggi presentiamo un smartwatch della marca Endubro nella confezione troviamo un manuale di istruzioni in inglese e cinese quindi non so se vi potrà servire mai un cavo per l'alimentazione il foglietto con il QR code per scaricare l'applicazione che poi vedremo in funzione e il nostro bellissimo smartwatch che accendiamo col tasto multifoluzione centrale eccolo qui allora guardiamo un po' da vicino il nostro smartwatch abbiamo un esteticamente veramente molto bello neanche troppo grande materiale plastico con uno schermo da 1,54 pollici IPS risoluzione 240x240 abbiamo una fotocamera da 0,3 megapixel e lo slot per la micro USB eccolo qui facciamo vedere il tasto multifunzione con cui si farà tutte le operazioni la back cover in plastica poi vedremo il perché il microfono e l'altro parlante anche qui vedremo dopo il perché il braccialetto è componente in silicone un classico braccialetto ovviamente esteticamente ricorda molto 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 lo smartwatch di Apple prima di vedere un pochino il funzionamento guardiamo un po' invece cosa c'è all'interno del nostro smartwatch lo andiamo a spegnere abbiamo la nostra batteria a litio da 300 mAh che garantisce circa un centinaio di ore di utilizzo in stand by ovviamente tutto dipende dall'utilizzo che ne fate io vi dico tranquillamente che dai nostri test non si è andato mai oltre le due giornate con un buon utilizzo questo smartwatch ha anche lo slot per la sim eccolo qui abbiamo già montato la nostra sim ha anche uno slot per la micro SD fino a 32 GB in quanto la memoria interna è di 128 MB e adesso vediamo come si comporta non avrete mai bisogno di sincronizzare manualmente il vostro smartwatch in quanto con l'applicazione che poi vedremo in funzione lui ricava direttamente l'orario, la data e tutto quanto adesso vediamo un pochino il menu abbiamo il menu chiamate ovviamente il dialer, eccolo qui, molto semplice e la funzione messaggi scrivi messaggio, messaggi in arrivo possiamo decidere se mandare e ricevere i messaggi in locale quindi direttamente alla sim che si trova all'interno oppure mediante il collegamento prodotto al proprio smartphone e potremo leggere i messaggi che si trovano sul nostro smartphone cosa molto più comoda secondo me abbiamo poi la funzione appunto registro chiamate chiamate effettuate chiamate ricevute abbiamo la funzione rubrica che caricherà ovviamente tutte quante i nostri contatti nel nostro smartphone abbiamo poi la funzione media player quindi audio e video mediante i file che carichiamo sulla micro SD abbiamo Whatsapp, spero che si veda ok il cambio del tema facebook, twitter, la ricerca, il QR code la modalità notturna per monitorare la qualità del sonno i vari profili quindi silenzioso, riunione, quello che vi pare il reminder per la sanitarietà la funzione cronometro la funzione fuso orario ovviamente di tutti i fuso orari internet explorer quindi ovviamente potete fare una piccola ricerca sul web mediante la sim mediante la sim, quindi la connessione ai dati della sim e appunto l'audio la fotocamera in quanto ha questa fotocamera da 0,3 megapixel ovviamente li salva in automatico sulla micro SD poi i servizi della sim che abbiamo all'interno il tema il menu del bluetooth il voice recorder, molto comodo anche questo funzione sveglia, calcolatrice, calendario, impostazioni configurazioni, configurazione di telefono, impostazioni proprio in effetti è un piccolo cellulare a portata di mano il browser dei file che sono all'interno ovviamente non c'è la memory card quindi comunque non possiamo vedere nulla e la funzione galleria la funzione è remoto per scattare le fotografie dal nostro smartphone direttamente in remoto e poi si ritorna al menu principale eccolo qui abbiamo la possibilità di customizzare il layout del nostro smartwatch possiamo cambiare eccolo qui quello che più ci aggrada questo bellissimo smartwatch supporta sia iOS che Android in caso di iOS però solamente la funzione di chiamata invece in caso di Android abbiamo una compatibilità completa adesso vediamo come funziona l'aspetto delle cellule telefonate quando ci chiamano le notifiche ecco qui possiamo rispondere la chiamata abbiamo un menu interattivo eccolo qui spero che sia da bene in cui abbiamo la via voce il segnale il voice recorder il tastierino adesso proviamo col sistema invece di messaggistica di Whatsapp eccolo qui il vettore 2,9 messaggi possiamo visualizzarli leggere il contenuto del messaggio vediamo anche il sistema invece di messaggistica canonico ecco qui è arrivato il nostro messaggino proviamo a far partire invece una chiamata direttamente dal nostro smartwatch chiamata locale o chiamata mediante bluetooth vediamo la modalità locale quindi ovviamente con la sim che abbiamo già all'interno come sentite l'audio è un po' gracchiante però la telefona si capisce la telefona si capisce tranquillamente quindi la funzionalità è buona funziona va veramente molto bene vediamo al volo come funziona invece l'applicazione l'applicazione è Mediatek spero che sia da bene Mediatek smart device in cui possiamo customizzare le notifiche in base alle applicazioni che vogliamo addirittura Whatsapp quello che ci pare qualsiasi applicazione anche quelle di sistema quindi ovviamente i messaggi e ciò che preferite l'app è molto scarna però diciamo che serve solamente per sincronizzarsi con il proprio smartwatch in modo completo per avere tutte le notifiche sotto controllo ho detto quindi lo smartwatch è sicuramente una piccola bomba è bello esteticamente veramente notevole strutturalmente fatto molto bene assemblato bene l'autonomia è discreta diciamo che due giorni per l'utilizzo che se ne fa è molto buona l'audio sia in chiamata che in recezione è buono la fotocamera la userete un po' meno però comunque diciamo che è anche questa da annoverare nelle caratteristiche che abbiamo molto comoda la sim interna veramente una piccola chicca la compatibilità con le SD card fino a 32 GB rende questo smartwatch veramente completo che dire il prezzo di unità è assolutamente molto basso quindi mi sento veramente di consigliarlo a tutti quanti che vogliono cominciare con questi wearable detto questo a nome mio a nome di Lord Fenner vi ringrazio e alla prossima ciao a tutti